registrazione video samsung galaxy s8 risoluzione video in qe cd hd 4 volte la risoluzione hd alta definizione andiamo a effettuare il solito zoom 4x ops sono andato un po' oltre la messa a fuoco non sembra ottimale come nella registrazione video in full hd in full hd a 60 fotogrammi per secondo zoom 8x chiaramente l'immagine è evidente che sia molto molto più rumorosa ma è anche abbastanza normale con questo livello di zoom facciamo un pan veloce ottima la stabilizzazione samsung galaxy s8 registrazione video qe cd grazie